Mi odiano tutti tranne il cavallo. Il minimo che l'oracolo avrebbe potuto fare sarebbe stato tornarsene in soffitta da solo. Invece ordinarono a me e Grover di riportarcelo. Immagino che non fosse perché eravamo i più popolari. Attento alla testa, mi avvertì Grover mentre salivamo le scale. Troppo tardi. Bonk! Sbattei la faccia mummificata dell'oracolo sul telaio della botola sollevando una nuvola di polvere. Che cavolo! La misi a sedere e controllai se ci fossero danni. Ho rotto niente? Non lo so, non si capisce, ammise Grover. La issammo in soffitta e la rimettemmo a sedere sul suo sgabello, sbuffando e sudando a più non posso. Chi l'avrebbe mai detto che una mummia pesasse tanto? Non mi aspettavo che l'oracolo mi parlasse e avevo ragione. Fui sollevato quando finalmente ci chiudemmo la porta della soffitta alle spalle. Beh, esclamò Grover, che schifo! Sapevo che stava cercando di sollevarmi il morale, ma mi sentivo lo stesso a pezzi. Tutto il campo probabilmente ce l'aveva con me per la sconfitta subita con le cacciatrici e poi c'era la nuova profezia dell'oracolo. Era come se lo spirito di Delphi si fosse preso tutto quel disturbo per tagliarmi fuori. Aveva ignorato la mia domanda e si era fatto quella passeggiata per andare a parlare con Zoe. E come se questo non bastasse, non aveva detto nulla, nemmeno un indizio su Annabeth. Che cosa farà Chirone? Chiesi a Grover. Magari lo sapessi. Scrutò con malinconia la distesa di colline innevate fuori dalla finestra del secondo piano. Voglio andarmene di qui. Per cercare Annabeth? Dovette sforzarsi per concentrarsi su di me. Poi arrossì. Oh, giusto. Anche per questo, naturalmente. Perché? Domandai. A cosa stavi pensando? Pestò gli zoccoli con un certo nervosismo. Solo a una cosa che ha detto la Manticora a proposito del grande risveglio. Non posso fare a meno di chiedermi se tutti questi antichi poteri si stanno risvegliando. Forse... forse non sono tutti malvagi. Stai pensando a Pan? Mi sentii un po' egoista, perché mi ero totalmente dimenticato dell'ambizione che Grover coltivava da una vita. Il dio della natura era disperso da duemila anni. Si diceva che fosse morto, ma i satiri non ci credevano. Erano decisi a ritrovarlo. Lo cercavano in vano da secoli e Grover era convinto di potercela fare. Quell'anno, con Chirone che aveva inviato tutti i satiri in servizio d'emergenza a caccia di mezzo sangue, non aveva potuto continuare la sua ricerca. Una cosa che probabilmente lo stava facendo impazzire. Ho lasciato raffreddare la pista. Spiegò. Mi sento irrequieto, come se mi stessi perdendo qualcosa di davvero importante. Lui è là fuori, da qualche parte. Lo sento. Non sapevo cosa dire. Volevo tirarlo su di morale. Ma come? Il mio ottimismo era finito là fuori nel bosco, calpestato nella neve, insieme alle nostre speranze di vincere la partita. Prima che potessi rispondere, Taglia irruppe sulle scale. Ormai non mi rivolgeva la parola, ufficialmente, ma guardò Grover e disse «Di a persi di portare giù le chiappe». «Perché?» domandai. «Ha detto qualcosa?» chiese Taglia a Grover. «Ha chiesto perché». «Dioniso sta convocando un consiglio dei capi delle case per discutere della profezia», rispose. «Purtroppo questo include anche persi». Il consiglio si teneva attorno al tavolo da ping pong della sala ricreativa. Dioniso fece un gesto con la mano e comparvero gli spuntini, salsina al formaggio, cracker e diverse bottiglie di vino rosso. Poi Chirone gli rammentò che il vino infrangeva le sue restrizioni e che la maggior parte di noi era minorenne. Il signor D sospirò. Con uno schiocco delle dita, il vino si trasformò in Diet Coke. Nessuno beve, neppure quella. Il signor D e Chirone, in sedia a rotelle, si sedettero a un capo del tavolo. Zoe Bianca di Angelo, che era diventata l'assistente personale di Zoe, occuparono l'altro capo. Io, Grover Italia, ci sistemammo sulla destra e gli altri consiglieri, Beckendorf, Silena Boregar e i fratelli Stoll, sulla sinistra. Anche i ragazzi di Ares avrebbero dovuto mandare un rappresentante, ma si erano tutti, accidentalmente, rotti qualcosa durante la partita, per gentile concessione delle cacciatrici. Perciò si stavano riposando in infermeria. Zoe cominciò la riunione con una nota positiva. Tutto questo è inutile. C'è la salsa al formaggio, esclamò Grover, entusiasta. Iniziò a raccogliere una vagonata di cracker e palline da ping pong e a condirle a volontà. Non c'è tempo di discutere, continuò Zoe. La nostra dea ha bisogno di noi. Le cacciatrici debbono partire subito. Per andare dove? domandò Chirone. A ovest, rispose Bianca. Ero stupito di quanto sembrasse diversa dopo quei pochi giorni con le cacciatrici. I capelli neri adesso erano intrecciati come quelli di Zoe, così si riusciva a guardarla bene in viso. Aveva il naso cosparso di lentiggini e gli occhi scuri mi ricordavano vagamente qualcuno di famoso, ma non ricordavo chi. Aveva un aspetto più atletico e la sua pelle risplendeva come quella delle altre cacciatrici, come se si fosse fatta molte docce nel chiaro di luna. Ha sentito la profezia? Cinque andranno a ovest dalla dea in catene. Possiamo scegliere cinque cacciatrici e partire? Sì, concordò Zoe. Artemide è tenuta in ostaggio. Dobbiamo trovarla e liberarla. Stai trascurando qualcosa, come al solito, intervenne Talia. Il campo e le cacciatrici insieme potranno trionfare. Dobbiamo farlo insieme. No, replicò lei. Le cacciatrici non hanno bisogno d'ausilio. Aiuto, brontò la Talia. Non hanno bisogno di aiuto. Nessuno dice più ausilio da almeno 300 anni, Zoe. Aggiornati. Zoe esitò, come se si sforzasse di formare la parola nel modo corretto. Aiuto. Non abbiamo bisogno di aiuto. Talia alzò gli occhi al cielo. Lascia perdere. Temo che la profezia dica il contrario, osservò Chirone. Il campo e le cacciatrici devono cooperare. Oppure no, riflette il signor D, rigirandosi la diet coke sotto il naso come se fosse un raffinato bouquet. Uno si perderà. Un altro dovrà perire. Sembra piuttosto brutto, non trovate? E se invece falliste proprio perché cercate di cooperare? Signor D, sospirò Chirone, con tutto il dovuto rispetto, da che parte sta? Dioniso inarcò le sopracciglia. Chiedo scusa, mio caro Centauro. Stavo solo cercando di rendermi utile. Dobbiamo lavorare insieme, ribadì Talia, testarda. Non piace nemmeno a me, Zoe, ma sai come funzionano le profezie? Vuoi provare a opporti? Zoe fece una smorfia, ma capì che Talia aveva segnato un punto a suo favore. Non c'è tempo da perdere, avvertì Chirone. Oggi è domenica. Venerdì prossimo, il 21 dicembre, è il solstizio d'inverno. Oh che gioia, mormorò Dioniso. Un'altra noiosissima riunione annuale. Artemide non può mancare al solstizio, esclamò Zoe. È fra coloro che caldeggiano di più un'azione contro i tirapiedi di Crono. Se manca lei, gli dèi non decideranno nulla. Perderemo un altro anno di preparativi di guerra. Stai forse insinuando che gli dèi abbiano qualche problema ad agire insieme, signorinella? Chiese Dioniso. Sì, divino Dioniso. Il signor di Annui. Tanto per sapere. Hai ragione, naturalmente. Continua. Concordo con Zoe, intervenne Chirone. La presenza di Artemide al consiglio d'inverno è fondamentale. Abbiamo solo una settimana per trovarla. E cosa ancora più importante, forse, abbiamo solo una settimana per localizzare il mostro a cui lei stava dando la caccia. Ora dobbiamo decidere chi partirà per l'impresa. Tre di loro e due di noi, proposì io. Si voltarono tutti a guardarmi. Talia si dimenticò perfino di ignorarmi. Devono essere in cinque, continuai, un po' in imbarazzo. Tre cacciatrici, due del campo mezzosangue. Mi sembra più che giusto. Talia e Zoe si scambiarono uno sguardo. Beh, fece Talia. È una proposta ragionevole. Zoe sbuffò. Preferirei portare tutte le cacciatrici. Avremo bisogno di forza numerica. Seguirete la pista della Dea, le rammentò Chirone. Spostandovi in fretta. Senza dubbio Artemide seguiva le tracce di questo mostro raro, qualunque cosa sia, dirigendosi verso ovest. Voi dovrete fare lo stesso. La profezia è stata chiara. Il flagello dell'Olimpo la strada saprà mostrare. Cosa direbbe la vostra signora? Troppe cacciatrici guastano la pista. Un gruppo ridotto è la cosa migliore. Zoe raccolse una racchetta da ping pong e la scrutò con attenzione, come per decidere chi picchiare per primo. Questo mostro. Il flagello dell'Olimpo. Vado a caccia al fianco della divina Artemide da molti anni. Eppure non ho idea di cosa possa essere. Tutti si voltarono a guardare Dioniso, forse perché era l'unica divinità presente e gli dèi dovrebbero sapere ogni cosa. Stava sfogliando una rivista enologica, ma quando tutti si zittirono alzò gli occhi. Beh, non guardate me. Sono un dio giovane, ricordate? Non so nulla di bestiacce antiche e titani polverosi. Non sono un gran che come argomento di conversazione alle feste. Chirone? Chiesi io. Lei non ha nessuna idea su questo mostro? Lui piegò le labbra in una smorfia. Ne ho diverse e tutte piuttosto brutte e piuttosto irragionevoli. Tifone, per esempio, potrebbe corrispondere alla descrizione. Era davvero un flagello dell'Olimpo. Oppure il mostro marino Ceto? Ma se uno dei due si stesse risvegliando, lo avremmo saputo. Sono mostri dell'oceano grandi quanto un grattacielo. Tuo padre, Poseidone, avrebbe già dato l'allarme. Temo che questo mostro possa essere più elusivo. Forse perfino più potente. Credo che dovrete affrontare un pericolo davvero grosso, commentò Connor Stoll. Mi piacque, come disse, dovrete e non dobbiamo. Sembra che almeno due dei cinque moriranno. Uno si perderà nella terra dove mai pioggia avviene, rammentò Beckendorf. Se fossi in voi, starei alla larga dal deserto. Ci fu un mormorio di assenso. E la frase, la maledizione del titano uno dovrà patire, intervenne Silena. Che vorrà dire? Vedi Chirone e Zoe scambiarsi un'occhiata nervosa. Ma qualunque cosa stessero pensando, non la condivisero con gli altri. E per mano di un genitore, un altro dovrà perire, concluse Grover, addentando le sue palline da ping pong al formaggio. Com'è possibile? Quale genitore farebbe una cosa del genere? Un silenzio pesante calò attorno al tavolo. Lanciai un'occhiata a Talia e mi chiesi se stesse pensando la stessa cosa. Anni prima, Chirone aveva ricevuto una profezia sul primo figlio di uno dei tre pezzi grossi, Zeus, Poseidone e Ade, che avesse raggiunto i sedici anni. A quanto pareva, quel figlio avrebbe preso una decisione destinata a salvare o a distruggere gli dèi per sempre. Per questo motivo, alla fine della seconda guerra mondiale, i tre pezzi grossi avevano giurato di non avere più figli. Ma io e Talia eravamo nati lo stesso e adesso ci avvicinavamo entrambi al nostro sedicesimo compleanno. Mi ricordai una conversazione che avevo avuto l'anno prima con Annabeth. Le avevo chiesto perché, dato il potenziale pericolo che rappresentavo, gli dèi non mi uccidevano subito e la facevano finita. Alcuni di loro preferirebbero eliminarti, aveva detto, ma hanno paura di offendere Poseidone. Era possibile che un genitore dell'Olimpo si rivoltasse contro il proprio figlio mezzosangue? Non sarebbe stato più facile, a volte, lasciarci morire e basta? Se c'erano dei mezzosangue che dovevano preoccuparsi di un'eventualità del genere, eravamo io e Talia. Forse avevo sbagliato a non mandare a Poseidone quella cravatta con le conchiglie per la festa del papà. Ci saranno delle perdite, stabilì Chirone. Questo lo sappiamo. Oh misericordia, esclamò Dioniso. Ci voltammo tutti a guardarlo. Lui sollevò innocentemente gli occhi dalle pagine della rivista Il Bevitore. Ah, il pino nero sta tornando di moda. Non badate a me. Persi ha ragione, intervenne Silenna Boregar. Dovrebbero andare due ragazzi del campo. Oh, capisco, replicò sarcastica Zoe. E tu desideri offrirti volontaria, suppongo? Silenna, arrossì. Non vado da nessuna parte con le cacciatrici. Non guardate me. Una figlia di Afrodite che non desidera essere guardata, la schernizzò e. Cosa direbbe tua madre? Silenna fece per alzarsi, ma i fratelli Stoll la tirarono giù a sedere. Piantatela, intimò Beckendorf. Era un ragazzo grande e grosso, con una voce ancora più grossa. Non parlava molto, ma quando lo faceva, la gente di solito ascoltava. Cominciamo con le cacciatrici. Quali sono le tre che andranno? Zoe si alzò in piedi. Io naturalmente e porterò Phoebe con me. È il nostro miglior battitore. Parli di quella ragazzona a cui piace dare le botte in testa alla gente? Chiese Travis Stoll con cautela. Zoe annui. Quella che mi ha infilato le frecce nell'elmo? Aggiunse Connor. Sì, lo fulminò Zoe. Perché? Oh, niente, rispose Travis. Solo che abbiamo una maglietta per lei. L'abbiamo presa allo spaccio del campo. Tiro fuori una t-shirt argentata con su scritto Artemide, la dea della luna. Battuta di caccia autunno 2002. E sotto c'era una lunga lista di parchi nazionali e cose del genere. È roba da collezione. Le piaceva. Vuoi dargliela tu? Sapevo che i fratelli Stoll stavano tramando qualcosa. Come sempre del resto. Ma Zoe non li conosceva bene come me, immagino. Si limitò a sospirare e prese la maglietta. Come sono l'ultima arrivata. Non servirei a nulla. Te la caverai egregiamente, insistette Zoe. Non c'è niente di meglio per mettersi alla prova. Bianca chiuse la bocca. Mi fece un po' pena. Ricordavo la mia prima impresa, quando avevo dodici anni. Mi ero sentito del tutto impreparato. Onorato, forse. Ma molto risentito e parecchio spaventato. Immaginai che le stessero passando pensieri simili per la testa. E per il campo? Chiese Chirone. Mi guardò negli occhi, ma non avrei saputo dire cosa stesse pensando. Io... Grover si alzò così in fretta che sbatté contro il tavolo da ping-pong. Si pulì le briciole di palline e cracker dal grembo. Qualunque cosa per aiutare Artemide. Zoe arricciò il naso. Già mai, satiro! Non sei nemmeno un mezzo sangue. Ma fa parte del campo, obiettò Talia. Ed è dotato dei sensi di un satiro, oltre che della magia dei boschi. Sei già capace di suonare la melodia del battitore, Grover? Certo! Zoe esitò. Non sapevo cosa fosse la melodia del battitore, ma per lei doveva essere una buona cosa. E va bene, acconsentì. E il secondo? Andrò io. Talia si alzò e si guardò attorno, sfidando chiunque a contestarla. Ok, forse non sarò stato un genio in matematica, ma a un tratto mi resi conto che avevamo raggiunto quota 5 e che io non ero della compagnia. «Ehi, cavolo, aspettate un secondo!» esclamai. «Voglio venire anch'io!» Talia non replicò. Chirone mi stava ancora studiando, con gli occhi tristi. «Oh!» esclamò Grover, rendendosi improvvisamente conto del problema. «Cavolo, certo! Dimenticavo! Deve andarci Percy! Non volevo... Resto io! Percy andrà al mio posto!» «Non può!» obiettò Zoe. «È un maschio! Le mie cacciatrici non viaggeranno con un ragazzo! Mi rifiuto!» «Lo avete già fatto per venire qui?» osservai io. Era un'emergenza e obbedivamo a un ordine della dea. «Non affronterò pericoli in giro per il paese in compagnia di un maschio!» «E Grover allora?» domandai. Zoe scosse la testa. «Lui non conta! È un satiro, non un ragazzo!» «Tecnicamente non è un maschio!» «Ehi!» protestò lui. «Io devo venire!» insistetti. «Devo fare parte di questa impresa!» «Perché?» chiese Zoe. «Per via della tua amica Annabeth?» «Mi accorsi di essere arrossito. Odiavo avere addosso gli occhi di tutti.» «No! Cioè, in parte!» «Sento che devo esserci anch'io! Punto!» Nessuno intervenne in mia difesa. Il signor D sembrava annoiato, ancora assorto nella lettura della sua rivista. Silena, i fratelli Stoll e Beckendorf fissavano il tavolo. Bianca mi lanciò un'occhiata di compassione. «No!» confermò Zoe in tono piatto. «Insisto. Prenderò un satiro se proprio devo, ma non un eroe maschio.» Chirone sospirò. «L'impresa è per Artemide. Le cacciatrici devono poter approvare i loro compagni.» Mi fischiavano le orecchie mentre tornavo a sedere. Sapevo che Grover e qualcuno degli altri mi stavano guardando con partecipazione, ma non riuscivo a ricambiare il loro sguardo. Rimasi seduto lì finché Chirone non chiuse il consiglio. «E sia!» dichiarò. «Talia e Grover accompagneranno Zoe, Bianca e Phoebe. Partirete alle prime luci dell'alba.» E che gli dèi lanciò un'occhiata a Dioniso. «Presenti inclusi, speriamo. Siano con voi.» Non mi feci vedere a cena quella sera e fu uno sbaglio, perché Chirone e Grover vennero a cercarmi. «Persi, mi dispiace tanto», gemette Grover, sedendosi accanto a me sul letto. «Non sapevo che loro... che tu... lo giuro.» Cominciò a tirare su col naso e immaginai che se non lo avessi rincorato sarebbe scoppiato a piangere o mi avrebbe addentato il materasso. Ha questa tendenza a mangiarsi gli oggetti di casa quando è turbato per qualcosa. «Non c'è problema.» Mentì. «Davvero, va bene così.» Il labbro inferiore di Grover tremò. L'ho fatto senza riflettere. «Volevo così tanto aiutare Artemide, non pensavo ad altro. Ma prometto che cercherò Annabeth ovunque. Se potrò trovarla, lo farò.» Annuii e cercai di ignorare il grosso cratere che mi si stava aprendo nel petto. «Grover?» disse Chirone. «Mi lasceresti scambiare due parole con Persi?» «Certo.» Si inghiozzò lui. «Chirone?» Aspettò. «Oh!» esclamò Grover. «Intende da solo?» «Certo.» Mi guardò affranto. «Visto?» «Nessuno ha bisogno di una capra.» Uscì trotterellando dalla porta, asciugandosi il naso sulla manica. Chirone sospirò inginocchiandosi sulle zampe. «Persi, io non pretendo di comprendere le profezie.» «Già», risposi io. «Beh, forse perché non hanno senso.» Chirone puntò lo sguardo sulla fontana d'acqua salata che nell'angolo della stanza. «Talia non sarebbe stata la mia prima scelta per questa impresa. È impetuosa.» Agisce senza pensare. «È troppo sicura di sé.» «Avrebbe scelto me?» «Francamente no», rispose lui. «Tu e Talia vi somigliate molto.» «Grazie mille.» Chirone sorrise. «La differenza è che tu sei meno sicuro di te rispetto a lei.» «E questo potrebbe essere un bene, oppure un male.» «Ma una certezza ce l'ho. Voi due insieme sareste stati un pericolo.» «Avremmo trovato il modo.» «Come lo avete trovato stasera al ruscello?» «Non risposi.» «Mi aveva inchiodato.» «Forse è meglio così.» «Riflette. Puoi tornare da tua madre per le vacanze.» «Se avremo bisogno di te, ti possiamo chiamare.» «Già.» «Mormorai.» «Forse.» «Tirai fuori vortice dalla tasca e la posai sul comodino.» «A quanto pareva, l'avrei usata solo per scrivere bigliettini di Natale.» «Quando vide la penna, Chirone fece una smorfia.» «Non c'è da meravigliarsi che Zoe non ti voglia con sé.» «Soprattutto con quell'arma dietro.» «Non capivo cosa intendesse dire.» «Poi ricordai qualcosa che mi aveva detto molto tempo prima, quando me l'aveva consegnata.» «Questa spada ha una lunga e tragica storia alle spalle, che al momento non ci interessa.» «Volevo chiedergli un chiarimento.» «Ma poi, lui tirò fuori una dracma d'oro dalla bisaccia e me la lanciò.» «Chiama tua madre, Percy.» «Dille che torni a casa domattina.» «E...» «Ah, per quel che vale.» «Stavo quasi per offrirmi volontario io stesso.» «Sarei partito, se non fosse stato per l'ultimo verso.» «E per mano di un genitore, un altro dovrà perire.» «Già, non avevo bisogno di spiegazioni.» «Sapevo che il padre di Chirone era Crono, il re dei titani in persona.» «Il verso sarebbe tornato alla perfezione se lui avesse partecipato all'impresa.» «A Crono non importava di nessuno.» «Nemmeno dei propri figli.» «Chirone?» «Dissi.» «Lei sa cos'è questa maledizione del titano, vero?» «Si scuri in viso.» «Si portò al petto una mano chiusa ad artiglio e poi la slanciò in avanti, verso l'esterno.» «Era un antico gesto di scongiuro.» «Speriamo che la profezia non significhi quello che pensiamo.» «Ora buonanotte, Percy.» «Verrà anche il tuo momento.» «Ne sono certo.» «Non c'è alcuna fretta.» «Disse «il tuo momento» come quando si dice «la tua morte.» Non sapevo se Chirone intendesse questo, ma dall'espressione del suo sguardo ebbi paura di chiederglielo.» «Ero davanti alla fontana d'acqua salata e strofinavo la moneta che mi aveva dato Chirone, cercando di decidere cosa avrei detto a mia madre.» Non ero proprio dell'umore giusto per farmi dare altri ordini da un adulto, ma poi decisi che lei si meritava un aggiornamento. Alla fine tirai un sospiro profondo e lanciai la moneta. «Oh Dea, accetta la mia offerta.» Il vapore scintillò. La luce del bagno bastava appena a creare un debole arcobaleno. «Mostrami Sally Jackson», chiesi. «Upper east side, Manhattan.» E un attimo dopo, nel vapore, vidi una scena che non mi aspettavo. Mia madre era seduta al tavolo della nostra cucina con un... tizio. Stavano ridendo a crepa pelle. C'era una grossa pila di libri in mezzo a loro. Il tipo avrà avuto, non lo so, più o meno una trentina d'anni e aveva i capelli un po' lunghi, brizzolati, e una giacca marrone sopra una maglietta nera. Somigliava a un attore, uno che faceva la parte del poliziotto sotto copertura alla tv. Ero troppo stupito per parlare e, per fortuna, mamma e il tipo erano troppo presi dalle risate per notare il mio messaggio iride. Il tipo disse «Sally, sei uno spasso. Vuoi un altro po' di vino? Ah, meglio di no. Tu serviti pure, se vuoi. A dire il vero, dovrei andare in bagno. Posso?» «In fondo al corridoio», rispose lei, cercando di non ridere. Quella specie di attore sorrise, si alzò e si allontanò. «Mamma», dissi io. L'accolsi così di sorpresa, che fece un salto sulla sedia e per poco non rovesciò i libri dal tavolo. Finalmente mi mise a fuoco. «Persi! Oh, tesoro! Va tutto bene? Che sì!» Strizzò gli occhi. «I compiti!» Poi sembrò comprendere l'espressione sul mio viso. «Oh, tesoro! È soltanto Paul! Il signor Stockfiss viene al mio seminario di scrittura. Il signor Stoccafisso? Stockfiss tornerà fra un minuto, Persi. Dimmi cosa c'è che non va. Sapeva sempre quando c'era qualcosa di storto. Le raccontai di Annabeth. Anche del resto, ma soprattutto di Annabeth. Gli occhi le si riempirono di lacrime. Si vedeva che si stava sforzando di trattenersi per me. «Oh, Persi! Già, così mi dicono che non posso fare niente. Tornerò a casa, immagino. Si rigirò la matita fra le dita. Persi, per quanto io ti rivolgo qui, sospirò come se ce l'avesse con se stessa. E voglia saperti al sicuro. Desidero anche che tu comprenda una cosa. Devi fare quello che pensi di dover fare. La fissai. Che vuoi dire? voglio dire, credi davvero nel profondo di dover aiutare gli altri a salvarla? Pensi che sia la cosa giusta? Perché, se c'è una cosa che so di te, Persi, è che il tuo cuore è sempre nel giusto. Ascoltalo. «Mi... mi stai dicendo di andare?» Mia madre storse le labbra. «Ti sto dicendo che... stai diventando troppo grande perché io ti dica quello che devi fare. Ti sto dicendo che starò dalla tua parte, anche se quello che deciderai sarà pericoloso. Non riesco a credere che ti sto dicendo questo». «Mamma», si sentì lo scarico del bagno in fondo al corridoio del nostro appartamento. «Non ho molto tempo», fece lei. «Persi, qualunque cosa tu decida, ti voglio bene e so che farai la cosa migliore per Annabeth. Come puoi esserne sicura? Perché lei farebbe lo stesso per te». A quel punto mia madre passò la mano sul vapore e la connessione si dissolse, lasciandomi con un'ultima immagine del suo nuovo amico, lo stoccafisso, che le sorrideva. «Non ricordo di essermi addormentato, ma ricordo il sogno. Ero di nuovo nella caverna spoglia, il soffitto pesante e basso che mi sovrastava. Annabeth era inginocchiata sotto una massa scura che somigliava a una pila di macigni. Era troppo stanca perfino per gridare. Le tremavano le gambe. Da un secondo all'altro sapevo che avrebbe esaurito le forze e che la caverna le sarebbe crollata addosso. «Come sta la nostra ospite mortale?» tuonò una voce maschile. Non era Crono. La voce di Crono era graffiante metallica, come un coltello sfregato su una roccia. L'avevo udita molte volte nei sogni in cui aveva cercato di tentarmi. Ma quella voce era più profonda e cupa, come un basso elettrico. La sua forza faceva vibrare il terreno. Luke sbucò dalle tenebre. Corse da Annabeth, le si inginocchiò accanto, poi si voltò verso l'uomo invisibile. «Sta cedendo! Dobbiamo sbrigarci!» L'ipocrita, come se gli importasse veramente quello che le succedeva. La voce profonda ridacchiò. Apparteneva a qualcuno nelle tenebre, ai margini del mio sogno. Poi una mano robusta spinse qualcuno nella luce. Artemide, con le mani e i piedi legati da catene di bronzo celeste. Rimasi senza fiato. La sua veste d'argento era ridotta a brandelli. Il volto e le braccia erano segnati da diversi tagli, dai quali fuoriusciva l'icore, il sangue d'oro degli dèi. «Hai sentito, il ragazzo!» disse l'uomo nelle tenebre. «Decidi!» Gli occhi di Artemide lampeggiarono di rabbia. Non sapevo perché non mandasse in pezzi le catene o non scomparisse, ma non sembrava in grado di farlo. Forse glielo impedivano le catene stesse, o una qualche magia all'opera in quell'orribile antro. La dea guardò Annabeth e la sua rabbia cedette il posto all'ansia e all'indignazione. «Come osi torturare così una fanciulla?» «Morirà presto», disse Luke. «Tu puoi salvarla». Annabeth emise un lieve gemito di protesta. Mi si strinse il cuore. Volevo correre da lei, ma non potevo muovermi. «Liberami le mani!» ordinò Artemide. Luke estrasse la sua spada, Vibera. Con un solo colpo esperto spezzò le manette della dea. Artemide corse da Annabeth e le sollevò il carico dalle spalle. Annabeth crollò a terra e rimase distesa là, tremante. Artemide vacillò, sforzandosi di sostenere il peso delle rocce nere. L'uomo nelle tenebre ridacchiò. «Sei prevedibile quanto sei facile da sconfiggere, Artemide!» «Mi hai colto di sorpresa!» rispose la dea, affaticata sotto il grande peso. «Non succederà più!» «Direi proprio di no», replicò l'uomo. «Ora sei fuori dai piedi per sempre!» «Sapevo che non avresti saputo resistere alla tentazione di aiutare una fanciulla. Dopotutto è la tua specialità, mia cara.» Artemide gemette. «Porco! Tu non sai che cosa sia la pietà!» «Su questo!» ribatte l'uomo. «Siamo d'accordo.» «Luke, puoi uccidere la ragazza adesso!» «No!» gridò Artemide. Luke esitò. «Potrebbe... potrebbe ancora esserci utile, signore, come ulteriore esca.» «Da! Lo credi davvero?» «Sì, generale! Verranno a cercarla! Ne sono sicuro.» L'uomo riflette. «Allora le dracene le faranno la guardia. Ammesso che non muoia prima per le ferite, puoi tenerla in vita fino al solstizio d'inverno. Dopo, se andrà tutto secondo i piani, la sua vita sarà insignificante. La vita di tutti i mortali sarà insignificante.» Luke raccolse il corpo privo di sensi di Annabeth e lo portò via. «Non troverete mai il mostro che cercate!» affermò Artemide. «Il vostro piano fallirà!» «Quante cose ignori, mia giovane dea!» replicò l'uomo nelle tenebre. «In questo stesso istante, le tue care ancelle stanno partendo per venirti a cercare. Faranno il mio gioco alla perfezione. Ora, se vuoi scusarmi, abbiamo un lungo viaggio da affrontare. Dobbiamo andare incontro alle tue cacciatrici e assicurarci che la loro impresa sia... stimolante.» La risata dell'uomo riecheggiò nell'oscurità, scuotendo la terra finché non sembrò che l'intero soffitto della caverna fosse sul punto di crollare. Mi svegliai di soprassalto. Ero certo di aver sentito dei forti colpi. Mi guardai intorno. Fuori era buio. La fontana d'acqua salata gorgogliava ancora. Si udivano solo il verso di un gufo nel bosco e la risacca sulla spiaggia, in lontananza. Al chiaro di luna, sul mio comodino, c'era il berretto dei New York Yankees di Annabeth. Lo fissai per un secondo e poi... Tump! Tump! Qualcuno o qualcosa stava bussando alla mia porta. Afferrai vortice e mi alzai dal letto. «Sì?» chiamai. «Di nuovo. Tump! Tump!» Mi avvicinai alla soglia in punta di piedi. Tolsi il cappuccio alla spada, spalancai l'uscio e mi trovai faccia a faccia con un pegaso nero. «Ehi, capo!» La sua voce mi risuonò nella testa mentre si scansava dalla lama. «Non infilzarmi come un kebab di cavallo!» Spiegò le ali nere e la corrente d'aria che sollevò mi fece arretrare di un passo. «Black Jack!» esclamai, sollevato ma anche un po' irritato. «Siamo nel cuore della notte!» Lui se la prese. «Per niente, capo! Sono le cinque del mattino. Com'è che ancora dormivi?» «Quante volte te l'ho detto! non chiamarmi capo!» «Come vuoi tu, capo?» «Sei tu che comandi!» «Sei il mio numero uno!» Mi stropicciai gli occhi per scacciare gli ultimi residui di sonno e cercai di impedire al pegaso di leggermi nel pensiero. È questo il problema quando sei il figlio di Poseidone. Dal momento che lui ha creato i cavalli dalla schiuma del mare, riesco a capire la maggior parte degli equini, ma anche loro possono capire me. Qualche volta, come nel caso di Black Jack, mi adottano perfino. Vedete, Black Jack era stato prigioniero a bordo della nave di Luke l'estate prima, finché noi non avevamo creato una piccola distrazione che gli aveva permesso di scappare. Io centravo molto poco a dire il vero, ma Black Jack mi attribuiva il merito di averlo salvato. «Black Jack», dissi, «dovresti stare nelle stalle». «Bah, le stalle!» «Hai mai visto Chirone nelle stalle?» «Beh, no, appunto. Ascolta, abbiamo un altro piccolo amico marino che ha bisogno del tuo aiuto». «Di nuovo?» «Sì, ho detto agli ippocampi che sarei venuto a prenderti». «Sbuffai». Ogni volta che mi trovavo minimamente vicino alla spiaggia, gli ippocampi mi chiedevano una mano per risolvere i loro problemi. E ne avevano un sacco. Balene spiaggiate, focene intrappolate nelle reti dei pescatori, sirene con le pellicine alle unghie. Mi chiamavano per andare sott'acqua ad aiutarli. «E va bene», dissi. «Vengo». «Sei il migliore, capo!» «E non chiamarmi capo!» Black Jack mi tripiano. Avrebbe potuto essere una risata. Mi voltai a guardare il mio comodo letto. Lo scudo di bronzo era ancora appeso alla parete, scheggiato e inutilizzabile. E sul comodino c'era il berretto magico di Annabeth. D'impulso me lo infilai in tasca. Credo che avessi la sensazione, già allora, che non sarei tornato nella mia capanna per molto, molto tempo.